Grazie Giorgio, grazie Enrico, ho ancora da iniziare, buoni, 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 no no fermi, fermi, buoni lì, ragazzi, buoni giù, buongiorno a tutti, siamo talmente democratici che siamo talmente, shh, buoni, 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 buoni lì, allora, noi siamo buoni, fermi lì, fatemi dire innanzitutto una cosa, se qualcuno fuori da qui o infiltrandosi dentro di qui potesse pensare che ci toglierà il buon umore di questa campagna referendaria ha totalmente sbagliato destinatario, faremo la campagna referendaria con il sorriso, cercheranno le provocazioni, gli scontri, le critiche, noi siamo sempre pronti a dialogare con tutti ma sappiate che lo faremo con il sorriso, con l'entusiasmo, bello vedere tanti bambini, io temo perché vi abbiamo costretto a un orario sbagliato e sono imbarazzatissimo perché sono pure arrivato in ritardo, perché se arrivi al sud in ritardo di mezz'ora è un segno di stile, ti aspetti, ero in macchina e dicevo Giorgio siamo in ritardo di mezz'ora, non ti preoccupare, non ti preoccupare, stai tranquillo, ti aspettano e poi intanto c'è la sua figlia che gli mandava i messaggini, papà dove siete? E tutti voi eravate a dire però questi toscani sono in ritardo pazzesco e allora il paradosso Enrico è che voi siete partiti in anticipo a fare il comitato, io sono in ritardo stamattina, il paradosso di stamattina è che siamo stati a trovare la Brembo a dire che l'Italia deve accelerare, nell'azienda c'è qui Alberto Mombasei più bravo al mondo a frenare, siamo a discutere di come, ma è importante perché puoi accelerare soltanto se qualcuno sa frenare e il punto chiave, il punto più bello e più straordinario di questa giornata è che, me lo permetterete perché c'è un elemento personale, umano, io sono tanto felice di vedere Giorgio Gori qui con la fascia di sindaco, l'ho visto giù, per un motivo molto semplice e molto personale, quando ho incontrato Giorgio mi ha detto, io, dice ma tu, grande manager, impegnato, che vuoi fare? Io voglio fare il sindaco di Bergamo, io a dirgli ma figurati, guarda questo mi prende in giro e invece in questi due anni e mezzo l'ho visto con una dedizione, una tenacia, una passione e un impegno per questa città per cui voglio innanzitutto dirti grazie sindaco per quello che stai facendo. Cerchiamo di essere chiari, parliamo della riforma costituzionale, sì, però l'ha detto bene sia Enrico che Giorgio, lo hanno detto bene entrambi, in realtà c'è qualcosa di più e di più grande. Alla fine chiedo a Barbara, a qualcuno, a Filippo se mi portano il quesito referendario che leggeremo alla fine per rendersi conto di che cosa andremo a fare a ottobre, cioè su quale argomento diremo sì o no. Ma il punto chiave è che sta accadendo qualcosa di straordinariamente importante nel nostro Paese. Dopo anni in cui la politica continuava a mettere in fila chiacchiere su chiacchiere su chiacchiere, qualcosa sta avvenendo, qualcosa di grande, qualcosa di importante. Attenzione, si possono avere le opinioni più diverse, qualcuno può dire a me non piace questa riforma, come qualcuno potrà dire che il Jobs Act non funziona, qualcuno potrà dire che la riforma della scuola non funziona, qualcuno potrà dire che la legge elettorale non gli piace, qualcuno potrà dire che la riforma della pubblica amministrazione doveva essere più coraggiosa, qualcuno potrà dire che la riduzione delle tasse con l'Imu, la Tasi, è stata sbagliata perché non bisognava togliere le tasse sulla casa, qualcuno potrà dire che l'Irap costo del lavoro andava mantenuto e che bisognava tagliare altrove. Ma quello che sta accadendo è che finalmente le cose succedono. Cos'è accaduto per anni? Fuori dalla politica, fuori dai palazzi del potere, l'Italia correva. Lo vediamo anche nelle aziende di questo territorio, lo vediamo nell'università di questo territorio, lo vediamo nel mondo dell'associazionismo, siamo al teatro sociale, nel mondo del volontariato, nel mondo della cultura. Fuori dai palazzi della politica l'Italia correva. Non è vero che l'Italia è fatta soltanto di problemi, di difficoltà, l'Italia andava avanti. Invece nel mondo della politica sempre le stesse facce, che si scambiavano le poltrone, ma rimanevano sempre loro. L'immagine più efficace che mi viene in mente della politica italiana di questi anni è il wrestling. Avete visto quando fanno finta di darci delle botte pazzesche? Poi si rimettono su e sono sempre i soliti, perfetti, perché è una grande finta. Non è un caso che in questo referendum, nel fronte del no, ci siano tutti e il contrario di tutti. Stiano insieme storie profondamente diverse. E stiano insieme storie profondamente diverse unite da che cosa? Da una proposta alternativa? No. Dall'esigenza di dire no. Non si cambia. Ora naturalmente il compito di spiegare le ragioni di questa riforma è nostro, più che parlare di quelli che dicono no. E proviamo a parlare nel merito di quello che sta avvenendo. Per anni, lo ha detto Giorgio Gori, ci hanno raccontato che in Italia c'erano troppi politici. Oh, senti Renzi vuol fare il demagogo, il qualunquista, l'antipolitico. Oh, io vi guardo negli occhi. Io amo la politica. Non mi sentirete mai dire una parola contro la politica. La politica, diceva Sant'Omaso, è la forma più alta di carità organizzata. La politica è il tentativo di rispondere ai bisogni delle persone. È dire a quelle bambine e a quei bambini che sono qui, noi stiamo immaginando per voi un futuro che abbia il senso della giustizia e non dell'egoismo. C'è tanto bisogno di politica nel mondo. E la politica è fatta da chi fa delle proposte, non da chi dice no. Altrimenti diventa ostaggio della paura. E guardate che sta accadendo in tante parti del mondo, in tante parti del mondo. Dagli Stati Uniti al sud-est asiatico fino all'Europa. Quante persone, quanti politici giocano sulla paura? Pensate a chi continua a dire che dobbiamo tirare su dei muri. Chi costruisce un muro pensa di sentirsi al sicuro. Alla fine finisce che è lui che è intrappolato dentro. Noi abbiamo l'idea di rispondere alla politica della paura con il coraggio, con l'apertura, con il dialogo. Noi siamo quelli delle piazze, lo sapete a Bergamo, lo sappiamo in tutte le città, non dei muri. Noi siamo quelli che pensano che fare politica significa fare delle proposte. Che quando c'è una questione come l'immigrazione, metto i piedi sul piatto, metto i piedi sul tavolo immediatamente, una questione difficile che ci vede anche in dovere di dare risposta alla nostra gente, ma quando c'è una situazione con l'immigrazione devi avere due atteggiamenti diversi. Il primo è l'immediato. Se qualcuno sta affogando in mare, io non sto dietro agli slogan populisti. La mia cultura, i valori della mia civiltà, della nostra civiltà, ci impongono di andare a salvare quelle persone, ci impongono di andare a recuperare quelle vite. E quando una bambina nasce a bordo della Guardia Costiera o della Marina Militare sono orgoglioso di essere italiano. E lo vengo a dire a Bergamo, perché questa è la nostra gente, questo è il nostro popolo. Accanto a questo però sappiamo che dobbiamo fare una strategia di medio periodo, perché non possiamo pensare di far finta di niente. Quante volte sentiamo in tv i profeti del talk show dire aiutiamoli a casa loro? È un concetto rozzo, volgare, ma giusto. Giusto. Solo che se li vuoi aiutare a casa loro devi fare investimenti sulla cooperazione internazionale, che i governi precedenti hanno tagliato. Se vuoi aiutarli a casa loro devi pensare che l'Africa non è il luogo della paura, il continente nero. È il continente che può crescere con tutti i problemi, la mancanza di democrazia in tante realtà, ma che ha visto negli ultimi anni, non solo l'Africa, l'intero pianeta, uscire dalla povertà un miliardo di persone. Allora dobbiamo immaginare delle strategie di sviluppo. Dobbiamo fare un progetto completo. Noi l'abbiamo fatto come governo italiano. Questa è la politica. Il Migration Compact è una proposta che l'Italia ha fatto a livello europeo per dire andiamo insieme a scommettere davvero ad aiutarli a casa loro. Aiutarli a casa loro per noi significa immaginare una strategia di sviluppo per l'Africa perché queste persone non rischino la vita in mare, perché il mare è il posto più pericoloso dove salvare le persone. Aiutarli a casa loro significa avere a cuore una strategia di sviluppo perché l'immigrazione non sia più un problema. Altri pensano che aiutarli a casa loro sia portare i diamanti in Tanzania, sia continuare con un atteggiamento in cui si è fatto tanta scommessa sulle paure delle persone, ma non si è risolto il problema della gente. Allora non venite da me a dire che io non amo la politica. Io adoro la politica, la trovo una cosa fantastica. Però ci sono troppi politici in Italia. Siamo il Paese al mondo con il più alto numero di politici e questa riforma riduce non il livello della politica, riduce il numero dei politici. E questo è il punto chiave. Abbiamo il Parlamento più costoso e numeroso del mondo. 945 parlamentari. Ora gli Stati Uniti, che ovviamente non sono importanti come noi, per carità di Dio, ne ha poco più di 500 tra Congresso e Senato, hanno poco più di 500, ci mi pare che siano 525. Noi che siamo l'Italia, 945. Ora, è vero che l'Italia ha grandissime responsabilità, però la prima regola che da 30 anni la politica dice di voler attuare è ridurre il numero dei politici. Con questa riforma il percorso delle province che ha portato a eliminare consiglieri e provinciali come ceto politico, perché il consigliere provinciale e il presidente della provincia oggi è un amministratore di secondo livello, accade anche al Senato. Si eliminano 315 stipendi e il Senato diventa un luogo che non dà più la fiducia, non fa più il ping pong di cui parlava Giorgio nel rapporto nella creazione di leggi e rende finalmente più semplice questo Paese. La prima regola di questa riforma è che fino ad oggi, alla fine del mese, lo Stato, voi cittadini, pagate 945 stipendi di senatori, continuerete a pagarne tanti perché è giusto, 630 però e non 945, e a questa riduzione corrisponderà a una semplificazione. Una sola Camera avrà il potere di dire sì o no alla fiducia, non tutte e due, perché quando c'erano maggioranze diverse i governi andavano a casa. E noi abbiamo avuto 70 anni di vita repubblicana e 63 governi. Un governo durava meno di un gatto in autostrada. Dice, ma te non puoi parlare con questi termini di riforma costituzionale. Vi potrei citare le dichiarazioni sul problema del bicameralismo parfetto, bicameralismo paritario. Tre anni dopo l'approvazione della Costituzione, chi come me ama Giuseppe Dossetti, Giorgio Lapira, i costituzionalisti cattolici, i professorini, sa che Giuseppe Dossetti, al convegno di assisi dell'Unione dei giuristi cattolici italiani, spiegò nel dettaglio perché c'era stato un eccesso di prudenza nel fare il bicameralismo paritario. Il bicameralismo paritario era stato, dice un altro autorevole giurista cattolico, il risultato di veti incrociati. E la sinistra da sempre era a favore, ad esempio, del superamento del bicameralismo. Enrico Berlinguer parlava direttamente di monocameralismo. La storia di questi 70 anni ci ha sempre detto, tutti e soprattutto i 30 anni dell'ultimo periodo, di quando si è iniziato a ragionare di riforme, ci ha sempre detto, basta, due rami del Parlamento così non hanno senso, non accadono, ci sono solo in Italia. Cos'è accaduto in questi due anni? Che non ci credeva nessuno, ma questa legislatura ha fatto la riforma costituzionale. L'ha fatta. non ci credeva nessuno perché per la prima volta nella storia costituzionale del nostro Paese, e io gioco volutamente il doppio binario delle citazioni dotte dei costituzionalisti e delle immagini un pochino più terra terra, i tacchini hanno chiesto l'anticipo del Natale. Perché una serie di senatori del PD, quando io dissi loro, sapete che c'è? Io voglio superare il Senato così com'è? In un incontro di gruppo arrivò un senatore con la spilletta solo un tacchino felice e spiegò che quello che io gli stavo chiedendo era che i senatori rinunciassero alle loro seggiole, alle loro poltrone. Guardate che per una classe politica passare da 945 a 630 vuol dire tagliare un terzo delle possibilità di continuare a fare politica in modo professionale. È la più grande opera di autoriforma che la politica può fare. Ho chiesto ai senatori, avete il coraggio di far questo? E quando lo chiedevo avevo paura che mi dicessero di sì a parole e no coi fatti. Hanno votato sei volte tra deputati e senatori. Hanno ottenuto questo risultato. A me pare un risultato straordinario. Per la prima volta nella storia italiana c'è una riduzione del numero dei parlamentari. Allora il primo tema su cui si voterà è sì o no. Chi dice sì dice che vuole ridurre il numero dei parlamentari, rendere la Camera un luogo nel quale si dà la fiducia e si vota il bilancio e il Senato un luogo di rappresentanza delle autonomie territoriali senza stipendio, senza indennità, con cento amministratori locali che vanno a Roma a rappresentare le istanze del territorio e una semplificazione pazzesca in termini di produzione legislativa e di riduzione dei tempi. È un sì o no secco. Volete continuare come stiamo adesso o volete portare l'Italia nel futuro? E io vorrei che di questo si discutesse. Per questo che siamo partiti. Ragioniamo di questo. Posso fare una provocazione? Giorgio, sono autorizzato? Mi guarda preoccupato, Giorgio. È sempre stata la parte saggia del gruppo. Però io la devo dire. Molti di voi che sono qui probabilmente magari sono del PD o credono comunque nel centro-sinistra. Ma questa riforma la voteranno tantissimi elettori del Movimento 5 Stelle e della Lega Nord. Perché? Mentre è comprensibile che i dirigenti della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle, che hanno una fifa matta di perdere le loro poltrone, perché di questo si sta trattando, che hanno il terrore di vedere finita la loro carriera politica, perché parlano contro il sistema, ma come stanno bene a Roma? C'è Roma che hanno d'incanto i dirigenti. La gente, la gente, i cittadini, i cittadini che votano 5 Stelle e che votano la Lega Nord, quelli a cui io sto antipatico, quelli che non mi voteranno nemmeno sotto tortura, quelli che se mi incontrassero al buio di notte... No, vabbè, ora non esageriamo. Magari sì, ma non si può dire. Questi qui cosa fanno? Voteranno quando andiamo a raccontare su che cos'è il referendum, quando mi racconteranno su che cos'è il referendum, quando gli racconteremo su cos'è il referendum, voteranno per noi, voteranno per il sì. Perché non è un voto per il PD, è un voto per l'Italia. Allora, il mio augurio per questa campagna referendaria è molto semplice. Noi dobbiamo, sì, studiare le carte, andare a vedere tutti i documenti, come il dibattito costituzionale si è svolto dal 1946 al 1947, a dicembre del 1947, come è stato giusto che il Governo facesse la proposta. Il Presidente Terracini, era un po' più saggio di alcuni presunti statisti del nostro tempo, mette in votazione nella seconda sottocommissione la possibilità che sia il Governo a fare la proposta. e Calamandrei, che era Calamandrei, spiega che la democrazia decidente è l'unica alternativa al rischio dell'anarchia e al rischio della dittatura. Quindi noi abbiamo molte citazioni dotte, molti riferimenti culturali alti. Lunedì uscirà un documento, lunedì o martedì, di oltre 100 costituzionalisti che spiegano perché stanno convintamente dalla parte della riforma. Ma c'è anche il bisogno e la necessità di andare a incontrare le persone che magari non hanno letto tutti i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente e quelli che non solo votano per noi, ma quelli che non votranno mai per me o per il PD, ma che dicono mamma mia, mi ha messo un bivio tra avere 630 parlamentari e averne 945, tra una democrazia che funziona velocemente e una democrazia che è l'inciucio, costante, permanente, tra l'idea di poter avere un Governo che dura 5 anni e delle opposizioni che fanno il loro mestiere. E viceversa, i 63 governi che cambiano una volta all'anno, moltissimi elettori dei Cinque Stelle e della Lega e di Forza Italia voteranno per questa riforma. Bisogna andare a cercarli. Bisogna spiegare che i loro dirigenti non stanno difendendo gli ideali dei loro movimenti, stanno difendendo le loro poltrone, perché hanno paura di perderle. E noi li accontenteremo mandandoli a casa con le prossime elezioni. C'è un altro punto e poi vengo al secondo elemento delle Regioni e poi chiudo sulla personalizzazione o presunta tale del referendum. L'altro punto è che se per caso questa riforma non passasse, cosa accade? Accade che il Paese va nell'ingovernabilità. Come sappiamo? Se passa la riforma, cioè il partito che vince attenzione, il partito, perché il premio di coalizione non esiste, il premio è alla lista, un partito come in tutto il resto del mondo, vince Obama, ha vinto Obama, gli altri fanno l'opposizione. Vince Cameron, vince Cameron, gli altri fanno l'opposizione. Se c'è un partito che vince, quel partito governa e gli altri hanno tra l'altro più poteri, statuto dell'opposizione, controllo, possibilità di incidere. Ci sono tutta una serie di meccanismi che vanno in questa direzione, che vanno ad aiutare il lavoro delle opposizioni. Però si sa chi governa e chi è l'opposizione. Se questa riforma non passa, accadrà il paradiso terrestre degli inciuci. Perché? Perché ci sarà un sistema in cui nessuno avrà mai la maggioranza. E quindi voi, come è già accaduto, e io ne sono una dimostrazione, perché io sono diventato Presidente del Consiglio sulla base dell'incarico del Presidente della Repubblica, come prevede la Costituzione, ma sulla base di un accordo parlamentare. Perché? Perché il sistema oggi è un sistema nel quale è il Parlamento il luogo nel quale si formano le maggioranze o non si formano le maggioranze. Se nessun partito ha la maggioranza, è chiaro che dovrà fare gli accordi. Quindi voi votate per chi vi pare. Tanto poi l'inciucio lo fa come Roma. Se accade che la riforma non passa, accade che il potere diventa totalmente nelle mani, passa totalmente nelle mani degli inciocisti. Allora io lo voglio dire, oggi so che ci sarà una grande manifestazione qui a Bergamo guidata da autorevoli premi Nobel mancati, Brunetta, da tutta una serie di personalità del mondo economico e istituzionale. Domandate ai mancati premi Nobel dell'economia. Se un'azienda, se un lavoratore, se un imprenditore, ma se un cittadino preferisce avere un governo che ha la possibilità di governare per cinque anni con il voto degli italiani, poi se non vi piace la volta dopo lo mandate a casa, come prevede la democrazia? O se invece preferite che siano gli inciuci a farla da padrona? Io li capisco. Io capisco perché da Berlusconi alla sinistra radicale è la prima volta in cui abbiamo messo insieme Berlusconi e magistratura democratica. Dovranno esserci grati perché abbiamo fatto un'opera meravigliosa. Magari diventano anche amici, chi lo sa. È normale che Grillo e Salvini stiano sulla stessa posizione? È normale che la destra radicale e la sinistra radicale siano nella stessa posizione? Perché? Perché se passa questa riforma il loro potere di veto è finito. Si passa dal potere di veto al potere di voto. Si passa dal potere dei palazzi al potere dei cittadini. Si passa da un meccanismo in cui l'Italia è una democrazia, in cui comunque si decidono con accordi e accordicchi, oppure in cui finalmente il voto conta. A mio giudizio questo è un tema che va considerato. Io li capisco quelli che dicono no. I parlamentari hanno comprensibilmente voglia di continuare a giocare un ruolo, se per caso non va come loro credono. Evidentemente non solo rischiano, come si dice qui, lo scranno, il lati clavio, come lo chiamate? Avete visto quanti modi diversi per dire la stessa cosa? È chiaro che questi combattono e lottano per tenersela. Accanto a questo però c'è un secondo elemento che è molto importante ed è quello del potere delle regioni. Ora io non voglio aprire discussioni. Questa riforma costituzionale fa alcune cose di sostanza ed altre più di natura, voglio dirlo chiaramente, di immagine. Io non ho mica paura a dire la verità. Perché devo dire? Tra l'altro se avessi potuto scriverla totalmente da capo io l'avrei fatta diversamente. Io avrei voluto più sindaci, avrei voluto anche un meccanismo diverso, ancora più semplice nel rapporto tra regioni e Stato centrale. Ma dopo sei letture in Parlamento è chiaro che ci sono degli appesantamenti. È normale. Io sono intervenuto 40 minuti in Parlamento entrando a citare tutti i riferimenti ai lavori preparatori dell'Assemblea Costituente e degli 85 milioni di emendamenti che sono stati presentati. Perché Bergamo c'è un sacco di cose belle, ma c'è anche il mio amico Calderoli che ha presentato 82 milioni di emendamenti sul niente. È fantastico. E la teorizzavo dicendo io voglio bloccare la riforma. Bravo Calderoli, io voglio sbloccare il Paese. Questa è la differenza tra noi. Noi vogliamo rimettere in moto l'Italia, non divertirsi con gli algoritmi che creano emendamenti. Vogliamo creare lavoro, non emendamenti. Questa è la differenza di fondo. Bene. Le regioni hanno avuto con la riforma approvata dal centro-sinistra più poteri. E alcune regioni l'hanno utilizzate bene, altre meno bene. Però intanto c'è una confusione di ruoli che va chiarita. Faccio l'esempio tradizionale. Si può discutere se la Lombardia, che è la regione con il più alto numero di cittadini, il più alto livello di PIL, il più alto livello di benessere economico, la ricchezza più significativa, il numero delle aziende, vanno avanti? Bene. Si può discutere se la Lombardia deve andare come Lombardia a fare promozione turistica in Cina. Per me no. Per me non deve andare Firenze, non deve andare Venezia, non deve andare Roma. A maggior ragione non si arrabbieranno, non devono andare i Molisani o gli Umbri o i Liguri. Perché? O gli Abruzzesi. Perché se tu vai in Cina non gli vai a dire vieni in Calabria, se vuoi che qualcuno venga dovrai raccontare una strategia di Italia. Perché la promozione turistica deve stare in mano alle regioni? Aggiungo. Perché se un autotrasportatore si mette alla guida deve cambiare 20 volte la burocrazia passando in 20 regioni. Se tu hai un trasporto eccezionale devi cambiare 20 burocrazie diverse per viaggiare in Italia. Cioè siamo al tempo in cui uno si mette in macchina e arriva a Riga o a Lisbona senza cambiare. Ma se vai alla guida per esempio di un trasporto eccezionale le cose cambiano. Nel mondo dell'energia vi sembra normale che siano le regioni ad avere la competenza dell'energia? Cioè ormai l'energia è un fattore internazionale enorme. Come fai a pensare che di fronte a questo scenario che c'è? Tu hai le regioni che decidono le piattaforme energetiche o i corridoi. Cioè c'hai Nord Stream, South Stream e poi c'hai Abruzzo Stream, Piombino Firenze Stream. Che discorso è? Devi avere un atteggiamento in cui le competenze fondamentali vanno allo Stato centrale e la regione faccia bene il trasporto dei pendolari, la sanità, le cose sulle quali le regioni hanno competenza e vale soprattutto per il Sud. Perché io mi sto facendo un giro per il mezzogiorno pazzesco, sto girando tutte le regioni del Sud. Le regioni ci aiutino, anzi si mettano decisamente in moto per smettere quell'autentico scandalo che è stato lo spreco dei fondi europei. Il più grande scandalo dell'Italia è stato il fatto di aver buttato via miliardi di fondi europei. Patti chiari, tu spendi questo, in che tempi? Io ho sentito uno dire, vabbè dai abbiamo perso un po' di fondi europei. Ma, mamma mia, fondi europei, quelli sono fondi che l'Italia, ogni anno l'Italia dà quasi 20 miliardi all'Europa e ne riceve 12. Quindi i fondi europei sono fondi che stiamo dando noi all'Europa, perché siamo contribuenti attivi. E noi vogliamo bene all'Europa, vogliamo il grande disegno unitario dell'Europa, pensiamo che l'Europa sia un luogo fondamentale per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. E noi crediamo nella bellezza dell'ideale europeo, al punto da dare anche dei soldi. Però, caspiverina, quelli nostri almeno non buttiamoli via. Allora, le regioni devono fare l'ABC, quello che è fondamentale. Non devono mettersi in testa di scimmiottare gli stati sovrani. Devono fare bene le cose che devono fare bene. Pragmatismo, efficienza. Aggiungo sobrietà. Se passa la riforma costituzionale, secondo grande tema di valutazione, non soltanto si semplifica le competenze delle regioni e dello Stato, ma c'è un passaggio in più. Si abbassano gli stipendi dei consiglieri regionali e dei presidenti delle regioni. Ah Renzi, però sei nella fase di antipolitica. No, no, l'antipolitica non sono io che dico di abbassarli, sono loro che si rialzano. L'antipolitica è quando ci sono dei presidenti di regione che prendono più del presidente degli Stati Uniti. Quello che sta avvenendo con il nostro governo, io sono uno di quelli che badagna un sacco di soldi, più di 5.000 euro netti al mese, non più del presidente degli Stati Uniti, che non ha vitalizio, perché si può fare politica senza vitalizio, che non ha particolari esigenze, ma che pensa una cosa? Se la politica dà un segnale di sobrietà, la politica diventa credibile. Allora, gli stipendi dei consiglieri regionali si abbassano e non sarà più possibile per i gruppi regionali avere i rimborsi. Vi ricordate quelle vicende? Ora non vorrei parlare della Lega, ma vi ricordate, non era la Lombardia, è un'altra regione che inizia con la P e che sta leggermente a ovest della Lombardia, non dirò il nome della regione. Vi ricordate la storia delle mutande verdi? No, perché voi li vedete, mi ricordo mutande verdi, grande successo letterico, Canoro. Quelle mutande verdi erano state pagate con i soldi del rimborso dei gruppi regionali in Piemonte, essendo verdi erano della Lega. Ora, vi sembra normale che i soldi dei consigli regionali, che sono i soldi delle vostre tasche, delle vostre tasse, del vostro lavoro, debbano andare a pagare le mutande verdi dei consiglieri regionali. Con questa riforma non soltanto si innesta un ragionamento di semplicità e concretezza, ma anche di sobrietà, mai più rimborsi ai consigli regionali. Voi vedete che se parliamo di numero di parlamentari e di procedimento legislativo e se parliamo di poteri delle regioni e status dei consiglieri regionali, già vediamo due cose enormi. La politica ha fatto i compiti. La politica torna seria, perché la politica è una cosa bella. Noi facciamo politica perché rispondiamo alle persone. Io ho iniziato, io ho 41 anni. Quando penso che in questa settimana vado a rappresentare il paese più bello del mondo al G7, mi domando, ma scusa Matteo, ma te sei sempre il solito ragazzo di Rignano? Certo. Perché sei diventato presidente del Consiglio? Perché in Italia, come mi ha detto qualcuno, se ce l'hai fatta te tutto è possibile. Nel senso che questo è un paese dove chi ha voglia, chi ci può provare, chi si mette in gioco deve sapere che c'è una possibilità. Però contemporaneamente bisogna che la politica dia il buon esempio. Dimostri che si inizia a tagliare da se stessa, si inizia a semplificare da se stessa. Così saremo credibili per chiedere agli altri di fare un passaggio in avanti, per chiedere alle università di valorizzare i professori bravi, quelli col merito e non i figli dei figli, i nipoti dei nipoti. Così saremo credibili con il mondo del sindacato, dell'impresa, delle associazioni di categoria. Così saremo credibili con il sistema della pubblica amministrazione. A luglio entrerà in vigore, dopo mesi e mesi, doppia lettura, lettura della Camera, Senato, ping pong, navetta. Entreranno in vigore i primi decreti legislativi di attuazione della legge sulla pubblica amministrazione. Ci sarà finalmente il licenziamento, perché timbra il cartellino e se ne va. Ci saranno finalmente le prime misure concrete per cambiare passo anche in questa direzione. Ma la politica è credibile se parte da se stessa. Se la politica fatta da gente che non ha il vitalizio, ma che ha tanta vitalità, ha voglia di restituire all'Italia il compito che le aspetta. Pensate soltanto a queste due cose. Però nella riforma c'è un sacco di altro. C'è la semplificazione delle regole per fare una legge. Oggi noi facciamo troppi decreti legge. Ve lo dico con molta sincerità. Noi ne facciamo troppi, anche noi. Adesso c'è in Costituzione un principio, con la Costituzione rinnovata, del voto a data certa. Se il Governo ha la possibilità, entro 70 giorni, il Parlamento deve farlo entro 70 giorni, per poter approvare o meno un provvedimento di legge. Magari ci dicono di no, ma almeno non c'è bisogno di ricorrere alla decretazione d'urgenza. Si semplifica il quorum per il referendum. Oggi il quorum è il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Sarà il 50% più uno dei votanti della volta precedente. Quindi si riduce molto, per rispetto ai cittadini. Si aumentano gli istituti di partecipazione popolare. Se uno fa un procedimento di iniziativa popolare, oggi il Parlamento se ne può fregare. Cioè voi fate migliaia di firme, arriva alla Camera un documento e la Camera può decidere se ascoltarlo o no. Con la nuova Costituzione, se voi fate 150.000 firme, ci sarà la possibilità di discuterne, perché ci sarà l'obbligo di discuterne. Potremmo continuare a lungo con singole decisioni che fanno parte di questa riforma costituzionale. Ma il punto chiave è che finalmente l'Italia si rimette in moto, che l'Italia non ha più paura. L'Italia non dice no. Ed è un'Italia che lo fa perché c'è gente semplice, gente che non crede alla casta, gente che crede che si faccia politica perché ci sono delle persone. Noi non apparteniamo a un'azienda privata che da Milano ci manda le email anonime dove ci spiega cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Noi siamo dei cittadini veri. Questa riforma ha anche dei punti che non piacciono. Ah, Renzi, hai fatto tutto il discorso demagogico. Vi dico un punto sul quale non lisciamo il pelo all'opinione pubblica. L'immunità parlamentare. Ci hanno chiesto cancellatela e capisco l'atteggiamento. Perché tu dici perché il cittadino ha... Io non ho l'immunità parlamentare. Però se sei deputato senatore hai l'immunità parlamentare. Abbiamo deciso di tenerla. Perché? Perché è un principio democratico di presidio della funzione del Parlamento. Lo so che non è facile da raccontare. Ma è molto semplice. Se tu domani hai una situazione di tensione e uno decide, magari perché sta facendo un colpo di Stato, di arrestare tutti i parlamentari, può farlo. Invece, in questo modo, l'arresto è sempre possibile. Ve lo dice il segretario di un partito che ha fatto votare per l'arresto di uno del suo partito. Quando è arrivata la richiesta di arresto per, non dirò il nome, il cognome, l'onorevole genovese, noi ci siamo visti, c'è qui Guerini, c'è qui una parte del gruppo dirigente, c'è il ministro Martina, ci sono tutti i dirigenti del partito, ci siamo visti e abbiamo detto ma questo a norma di Costituzione è giusto arrestarlo. Non era mica facile dire di sì a un collega parlamentare, guarda domani mattina sei in carcere. Però era giusto per la Costituzione. E quindi abbiamo votato a favore quello onorevole, quando è tornato in Parlamento dopo un anno e mezzo, si è iscritto al gruppo di Forza Italia. Non l'ha presa benissimo, diciamo, ma era giusto far così. Perché l'immunità non è il diritto a non avere problemi, è il fatto che se sei parlamentare a tutela della funzione legislativa, è giusto che quando ti devo arrestare ci sia un vaglio ulteriore. Quindi a chi dice ah però potevate togliere l'immunità, io rispondo beh se volete votare contro per questo fatelo, avrete comunque l'immunità perché non cambia niente. Ma sono convinto di quello che abbiamo fatto, perché la Costituzione deve valere per oggi dove non c'è nessun rischio democratico e per domani dove potrebbe esserci un rischio democratico. Diverso è utilizzare la propria insindacabilità immunità parlamentare per offendere gli altri. Il mio partito, il Partito Democratico, si è sentito dire del mafioso, del colluso, del complice, si è sentito dire che prende le tangenti dagli operatori del petrolio. Da quattro deputati, ho tre deputati e un senatore, non dirò i nomi, i cognomi, Di Maio, Di Battista, Catalfo e un altro, non me lo ricordo, quello che diceva che non eravamo mai andati sulla luna. Sibilia, c'è un deputato di 5 Stelle che dice che noi non siamo mai andati sulla luna. Ora, appena lo scopri è un casino. Dice che l'allunaggio è un'invenzione degli americani. Appena scoprirà che l'allunaggio è realmente avvenuto ci sarà bisogno di un grande lavoro terapeutico, insomma di approccio. Questi quattro hanno detto che noi facciamo queste cose qua, noi le abbiamo denunciate. Io sto ancora aspettando che rinuncino all'immunità e all'insindacabilità, come noi rinunciamo all'immunità e all'insindacabilità, perché noi pensiamo che essere cittadini in Parlamento non sia uno slogan. Il nostro deputato, il senatore Esposito, è stato denunciato da uno di 5 Stelle e lui ha rinunciato all'insindacabilità. Quindi anche gli aspetti più difficili dell'immunità e dell'insindacabilità sono aspetti che si possono affrontare con il buon senso. Noi abbiamo tenuto perché non vogliamo che possa accadere tra 20 anni, 30 anni, 50 anni che ci sia un'emergenza democratica. Dunque, come vedete, siamo molto seri. Non vi stiamo raccontando che questa riforma è la riforma che magari condividete in tutto e per tutto. Ma è una riforma enorme. Noi stiamo per entrare nell'era della tecnologia spinta, anzi ci siamo già, ne parlavamo prima, l'industria 4.0. L'innovazione tecnologica trasformerà il mondo. Siamo nell'era dei big data, dei prossimi 20 anni. Pensate a cosa è stato internet nei 20 anni scorsi. Nei prossimi 20 anni il mondo cambierà. Tutti gli studi spiegano che ci sarà sempre più intelligenza artificiale. Ma noi non ci rassegniamo. Nel mondo che ci sarà, pieno di robot, noi crediamo nei valori umani, nell'amicizia, nel confronto. Noi pensiamo che la parola chiave per il futuro sia comunità, sia non chiudersi nelle nostre paure, nel nostro isolamento, sia tenere aperte più scuole, più luoghi di educazione, più centri sociali, più centri anziani, visto che diventeremo sempre più anziani. Fortunatamente è arrivato uno della ragioneria e mi ha detto che abbiamo un problema. Qual è? La gente vive troppo? Come un problema? Dice no, per le pensioni. Ho capito, ma chiamalo problema. Siamo il secondo paese al mondo per longevità. Si vive bene in Italia, è un fatto positivo. Poi ci piangiamo sempre addosso. Ma certo dobbiamo fare molte cose in questo mondo così tecnologico e iperconnesso. Noi abbiamo bisogno di istituzioni politiche che siano più veloci e più semplici. Essere più veloce e più semplice significa essere più giusto. E siccome nel nostro DNA c'è la giustizia sociale come elemento chiave, questa riforma non è soltanto una riforma della Costituzione, è il tentativo di ridare alla politica dignità. E allora questa riforma è una riforma che ci deve vedere con un grande movimento di popolo. In altri termini, io non voglio minimamente personalizzare questa battaglia. A quelli che dicono che lui vuole personalizzare, perché ho detto una cosa semplice, ho detto che se perdo vado a casa, vorrei dare due risposte oggi. La prima, ho detto che se perdo vado a casa, sì, lo confermo. E non lo dico a cuor leggero, perché so che questo è un impegno significativo, che i politici di solito non prendono in Italia. I politici sono quelli che quando finisce un'elezione vanno davanti alle telecamere e spiegano che non ho vinto, però non ho perso. Non ho vinto, ma sono andato bene. Oppure qualcuno ha detto che gli elettori non ci hanno capito. Pezzo di ignorante, sei tu che non ti sei spiegato. Gli elettori non è che non hanno capito. Può succedere di perdere. Da noi non perde mai nessuno. Non perde mai nessuno in Italia in politica. Invece quando si perde bisogna trarre le conseguenze dal fatto che si perde. E soprattutto, per essere molto chiaro, io non ho vinto un concorso per fare il Presidente del Consiglio. Mi ha chiamato un galantuomo, che si chiama Giorgio Napolitano, e quel Giorgio Napolitano lì aveva detto ai parlamentari, accettando una rielezione che non voleva, perché non la voleva mica fare lui, gli aveva detto di tutto. I parlamentari, Guerini è un ottimo incassatore, ma persino Guerini era scosso. Perché Napolitano ha detto dovete fare le riforme, basta con il rinvio. Quando Napolitano mi ha dato l'incarico, io sono andato in Parlamento e ho detto farò la riforma del Senato. E glielo ho detto ai senatori, che non hanno gradito. Ho detto voi sarete gli ultimi a dare la fiducia a un governo. Un po' arrogante, forse sì. Però il messaggio era chiaro. Se non riesco a ottenere questo risultato perché gli italiani vogliono tenersi il sistema di oggi, degli inciuci, del Parlamento più numeroso e più costoso del mondo, delle regioni che si comprano le mutande verdi e che immaginano di mettere il naso su tutto, dall'energia alla burocrazia alla promozione turistica, se l'Italia vuole questo sistema è giusto che lo faccia senza il mio impegno diretto. Io non sono adatto a stare dentro un Parlamento in cui si continua a vivacchiare. Se vogliono gli inciuci ne prendono un altro più bravo di me. Se vogliono le riforme io continuo. Loro la chiamano personalizzazione, io la chiamo serietà. Loro la chiamano demagogia, io la chiamo buona politica, etica della responsabilità, serietà verso i concittadini. E se qualcuno vota contro perché ce l'ha con me, voti pure contro. La Costituzione è molto più grande. A noi non fanno paura. Mi fa piacere vedere che applaudite. spero che... non vorrei darvi una delusione, però questo referendum lo vinciamo, quindi non accadrà. Vorrei che fosse chiaro che va tutto bene, ma questo referendum lo vinciamo. C'è un secondo punto, la personalizzazione. Ho finito. Ah beh, te vuoi fare... Guardate, è esattamente l'opposto. Ora noi non siamo stati veloci come i bergamaschi. Chapeau. E siete partiti a febbraio. Anzi, questa la riuso. perché tu ti dici, ma che fai? Parti a maggio. Quelli di Bergamo erano partiti a febbraio, se no, se no li perdevo. L'Italia che corre veloce. C'è l'Italia che dice sì e c'è l'Italia che corre veloce. Bene. È esattamente l'opposto. Cosa vi propongo come metodo? Non vi centrarla su di me. Io farò la mia parte, ma in questi mesi abbiamo un sacco di cose da fare. In questa settimana abbiamo chiuso l'accordo sulla flessibilità. A proposito, tutti quelli che dicevano l'Europa vi boccerà la stabilità, l'Europa mi dirà di no, l'Europa non vi darà la flessibilità. Un caro ciaone a tutti quelli che in queste settimane hanno insistito per dire che l'Europa ci avrebbe preso a schiaffi. Un saluto affettuoso, gufi e non. Noi abbiamo da governare in questi cinque mesi, per cui non potremo fare a tempo pieno la campagna elettorale. E voi avrete da lavorare, per cui non potete fare a tempo pieno la campagna elettorale. Ma noi vogliamo fare la cosa più straordinaria mai fatta negli ultimi anni in Italia. Una capillare campagna porta a porta fatta con il protagonismo delle persone. Cosa significa? Il sito www.bastaunsi.it Basta un sì, perché per poter finalmente cambiare l'Italia basta un sì. 5 persone minimo. Io per esempio il mio comitato ho firmato l'adesione al comitato referendario come tutti i cittadini. Mi sento ballare dietro. Ho firmato l'adesione come tutti i cittadini e l'ho firmata qui davanti. Tra l'altro c'era Francesca, la consigliera provinciale, che mi ha autenticato la firma. C'era Antonio, il ragazzo che ha preso la firma. Ho firmato al tavolino di Bergamo Alta. In questo weekend ci sono circa mille tavolini in tutta Italia e entro questo weekend arriveremo a 100.000 firme, che è una cosa straordinaria che dà il senso di quello che faremo nei prossimi mesi. Ma il punto bello è che ciascuno di voi può formare un comitato. Tutti a chiedermi giornalisti chi sarà il portavoce del comitato? Certo, ci sarà un comitato scientifico con un portavoce, ci sarà un comitato organizzativo a Roma per mettere in fila i vari documenti e le varie scartoffe, ma i comitati siete voi. Io il mio comitato lo faccio con cinque miei amici, poi cercheremo di adalgare, della scuola, degli scout e dell'università. Cioè non ci sarà nessun politico, perché uno, se mi riesce, devo convincerlo stasera e domani perché sta a casa mia, quindi se appunto a Sieve devo convincerlo è uno che vota Forza Italia, ma che mi ha detto Matteo, io con tutti questi parlamentari devo dire un medico, mio amico fraterno, e sarà il mio comitato, o meglio io sarò uno dei membri di questo comitato, perché sono le persone normali, altro che personalizzazione. Allora, con quelli del centro sociale con cui lavorate, con quelli della società sportiva, con i vicini di casa, con i condomini, con le zie, andate a ricercarvi le zie, non mettetegliela subito sulle, hai zia vorrei che tu facessi parte del comitato, no, abbiate un po' di tatto. Con le persone con le quali condividete qualcosa, anche con gli amici naturalmente dell'appartenenza politica, creiamo tanti comitati, vogliamo arrivare a 10.000 comitati a ottobre. Perché? Perché vogliamo far capire che questa riforma non è la riforma personalizzata di qualcuno, è la riforma che restituisce all'Italia un po' di speranza sul futuro, riduce i costi della politica, ma apprezza la politica, valorizza la politica, restituisce ai cittadini il diritto di scegliere e lo leva agli inciucisti di Roma, dà alle regioni il compito di fare bene ciò che le regioni devono fare e al resto ci pensa lo Stato. E dà un minimo di speranza a chi pensa che la politica sia una cosa meravigliosa. Hanno fatto 82 milioni di emendamenti per fermarci. A quelli che hanno cercato di fermarci, a quelli che pensano che noi molleremo, voglio dire, rassegnatevi. Siete circondati da centinaia e centinaia di persone che credono che questo sia il tempo in cui dire basta un sì. Basta un sì per rendere la politica una cosa seria, basta un sì per dare un messaggio di speranza all'Italia e basta un sì, leggetevi il quesito. Però io non so se qualcuno ha il quesito, non c'è qui, leggetelo. Volete voi, finalmente, c'è scritto questo sottotitolo, far sì che l'Italia sia coerente con le possibilità di speranza e di innovazione o volete continuare ad avere un Paese in cui la società corre, l'associazionismo corre, il volontariato corre e la politica è la palla al piede da portarsi dietro. Chi ama la politica perché noi vogliamo bene alla politica, perché noi la consideriamo una cosa bella, sa che questa occasione non ripassa. È un treno che passa ora e che non passerà più per anni. E allora il mio augurio è quello che ciascuno di voi, tornando a casa, vado a pranzo perché l'ho fatta troppo lunga, sempre mangiare, da guardare i politici, ma subito dopo, nel corso di questo weekend, nel corso dei prossimi giorni, lunedì al lavoro, inizi a mettersi giù i nomi delle persone che può coinvolgere. Sarà un fantastico tam-tam. Andremo in tutti i luoghi di questo Paese a cercare di spiegare perché questa non è la riforma di un governo, ma è la riforma di un Paese che ha voglia di dire sì al futuro. E il modo con il quale vogliamo accompagnare questi cinque mesi di campagna elettorale è con una canzone vecchia, vecchia, tanto vecchia, ma che dice che la gente ha il potere, che la gente ha la possibilità di scegliere. Se c'è una cosa che può fare finalmente la politica è quella di restituire alle persone il diritto di scegliere. Dalla ricca Bergamo, ricca di valori, prima ancora che di soldi, ricca di bellezze culturali, prima ancora che di qualità imprenditoriali, ricca di passione delle persone, perché questo siete. Dalla ricca Bergamo partiamo per dire a tutto il Paese che questa riforma non è per gli addetti ai lavori, che questa riforma restituirà agli imprenditori, ai lavoratori, alle cittadine e ai cittadini, la possibilità di credere che nei prossimi vent'anni l'Italia sarà leader in Europa e nel mondo. Dopo che per anni ci hanno riso dietro, stavolta sorrideremo noi, con l'entusiasmo e l'orgoglio di appartenere alla nazione più bella del mondo e alla comunità di persone che può restituire diritto alla politica e potere ai cittadini. Viva Bergamo e viva l'Italia!